Benny, 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 cosa mi combini? Per chi ancora non lo sapesse, il Papa ha annunciato che il 28 febbraio darà le dimissioni. Quello che voglio fare in questo video è un messaggio diretto verso Ratzinger, che so che mi segue su YouTube, che mi commenta sempre i video, quindi Benny, io a te che parlo, guardami negli occhi. Perché? Perché hai dato questa notizia oggi? E non dire che sono problemi di salute, lo sappiamo che è una puttanata, su. Anzi, visto che commenti sempre, lascia un commento qui sotto e fammi sapere il vero motivo perché hai deciso di levarti fuori dalle bale. Che poi, adesso, spiegami, ti sei messo due mesi fa su Twitter, e hai fatto nascere tutto quel casino, la gente che ti insultava, gli account che dovevano essere bloccati, eh? E poi saprei che te ne dovevi andare. Ma perché? Ha tutto questo spreco di fatiche inutili, stigilamenti di stomaco. Ma poi, ti sei messo su Twitter, ok, vabbò. Potevi approfittarne. Potevi mettere un bel tweet e ho scritto, non lo so, Bella zi, mi hai tornato in Germania, oh, un stucio, cioè... Qualcosa di ciovane, per far vedere che comunque sei rimasto ciovane. Che poi, il 28 febbraio, tre giorni dopo le elezioni politiche. Non è che ci stai preparando qualche scherzetto, no? Non è che stai lasciando il posto al nano nel caso gli vadano male nel 25. Perché poi lì è un casino, eh? Cioè, se sale lui al tuo posto è un puttanaio. E non è un modo di dire, è proprio un puttanaio, cioè, hai capito, no? Poi i motivi di salute... Dicono che magari fossi allergico a loro. E lì, lo so, capisco, il Vaticano è un casino. Cioè, uno che ti giri e tocchi lì è tutto d'oro. Cioè, anche la tazza del cesto ti siedi e... Non ti riesci più ad alzare. Non lo so, sono rimasto turbato. Poi il lunedì mattina alle 11. Io il lunedì mattina alle 11 sono ancora in botta del sabato sera. Io comunque, se tu confermi che te ne vai, il curriculum me lo firmo, lo scrivo e ve lo mando. Oh, non si sa mai. Sono un buon partito, cioè... Anzi, consiglio anche a quelli che stanno guardando se vogliono... Pensateci, eh, perché lì... Ti sta bene. Anche se mi dicono che c'è crisi, infatti... Ah, boh. Poi, ascolta, Benny. Tu non puoi uscirtene con queste notizie ogni volta che devo fare uscire un video nuovo. Cioè, mi sbagli tutti i programmi. E una volta col video di Twitter, che chi non l'avesse visto è qua. E andiamo con questo. E basta, dai. Cioè, la profonda amicizia che ci lega, ormai... Te ne freghi. Potevi mandare un messaggino, no? Dici, guarda, me ne vado. E ti dico, eh... Vabbò. Dai, eh, mi dispiace. Ripensaci. Dici perché, mi raccomando, qua sotto un commentino. Cioè, anche se lo vuoi mettere privato, lo leggo solo io. Non lo dico a nessuno. Cioè, almeno fino al prossimo video. Vabbè, io non vi dico neanche di iscrivervi, di commentare. Fate il cazzo che volete. Era un messaggio mio verso Benny. Spero che arrivi. Io vi saluto, Benny, mi raccomando. E mi raccomando al nano, eh. Cioè. Eh? Basta. Ciao a tutti, va.